dobbiamo esaminare come l'uomo possa arrivare alla possibilità di venir seduto dalla bestia con le due corna abbiamo già visto che dalla metà dell'epoca atlantica l'uomo per così dire dormì per l'evoluzione spirituale superiore questo periodo di sonno è l'epoca attuale ed era necessaria se non vi fosse stata mai si sarebbe realizzato quel che oggi intendiamo per intelletto prima del nostro tempo gli uomini ne erano privi e agivano in base ad altri impulsi le loro immagini li portavano all'azione senza riflessione l'uomo perse l'antica capacità chiaroveggente e in sua vece ricevette l'intelletto e discese nella materia di conseguenza gli vennero tessuti veli davanti al mondo spirituale e così in pari tempo acquisì l'intelletto esso può però essere un grave ostacolo per l'evoluzione spirituale in definitiva null'altro potrà trattenere l'uomo realmente trattenerlo dall'arrivare al principio del cristo se non l'intelletto sedotto l'intelligenza sedotta se coloro che alla fine saranno soggiaciuti alla bestia con le due corna potranno riguardare indietro a quel che loro veramente giocò il più brutto dei tiri costoro potranno dirsi la disposizione verso l'abisso è sì venuta soltanto più tardi ma quello che mi oscurò il principio del cristo fu l'intelletto che all'intelletto pensi al numero della bestia perché proprio per essere diventato uomo vale a dire che è stato dotato di un intelletto egoico proprio per questo egli può soggiacere alla bestia 666 il numero della bestia è infatti in pari tempo numero d'uomo e che tale sia nessun altro può vederlo meglio di chi abbia intelletto è numero d'uomo di chi col suo intelletto si fa sedurre da l'apocalisse di rudolf steiner